buongiorno ragazzi primi weekend league questa è la squadra della settimana chi vorrei trovare sterling, defy, varane, chi per me ma sicuramente troverò canelo di più forte comunque 401 come sapete perché non dovrò più bene di continuare ecco qua tipo 15.000 criti s'accorcio 20.000 20.000 criti più un pacchetto cioè un player pick fatta con una giornata abbia sottato uno più 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 a questo la vediamo un po' magari una sculata o bagnoli pick pick dai come on vabbè gare paulista e musulera di 84 di buttoria prendo un paulista perché primilabile intanto quali sono 40.000 messaggi il pacchetto ozze sono due pacchetti mega un pacchetto lo primo baxi abbiamo prima questo giocatore europeo baxi caboni e mi serve un fitustax da trovare anche la 500k dagli workout dai è if? no lo so inglese? chi è? vabbè un if così gratis lo butto via sotto aspetta quanto costa? vabbè vabbè un if felicola dai guardate buoni giocatori dai dai si sta io entro in udinese? vabbè perché te lo giocatori di zinco l'hai dai come on come on ieri non so che mi vorrei questo fitustax workout back to back ah ah c'è giocatori chi è? un'ara ho il preferito ma è un'ara che è stato squalificato un anno dal calcio non è guai a niente vabbè vabbè prendo i giocatori di zinco l'hai come on come on come on attenti iguain sicuro ecco ecco come poi via di marty da trovare ancora per la ventina volta iguain su questo fifa bellissimo questo gioco neanche dici una torre martinez pacchetto mega comunque dici una torre martinez sempre iguain sempre iguain sempre iguain ecco mega va nel workout per la magia chi è? chi è? oland vabbè 84 oland ci sposo beh dove sta? non è scambiabile perfetto un doppione via hai lo vince il grande sinistro manco scambiabile sai sinistro se ne è un cazzo comunque due pacchetti mega come questo andiamo un po andiamo un po via un po il workout quanto la vaga si schippa l'ho messa il combo se non sbaglio vedi la cacchietta vabbè oh guairo sotto ci posso mezzo sta eh proprio ogni lavai l'abbiamo trovata dai buona pelligora 025 pacchetto mega scambiabile pacchetti proprio cosa hanno messo ne ho un po ah 45 dai come on chi crea questo future styles o questo mappè walk out dai come on come on lancio portiere ci avevo creduto che ci avevo creduto ci avevo creduto ci avevo creduto che fosse mappè ci avevo creduto tantissime ragazzi vabbè su check quattro doppioni capito il bello di doppione pop pravlenca bel guai che si vedono ci avevo trovato gabriel ragazzi che non so se lo sapete ma costa tanto 1500 perché ci sono c'è la sfida ovviamente yedlin che adesso yedlin un po è andato in turchia nooo nooo intanto il cane vuole uscire ma lo faccio uscire carambaia carambaia ragazzi questa è la squadra che giocherò la weekending no questa perché ed adesso perché questo sto facendo gli obiettivi seri del futuro sto mi sto ammazzando questa è la squadra questa è la squadra c'è nest c'è messi c'è c'è reset c'è c'è ronaldi il fenomeno dici pariti dici gol tanta roba bellissimo anche se non c'è i 5-6 skill è sempre ronaldi e forse farò altri player picker o 200k o quello che troverò farò l'icona perché ho trovato onara ho trovato akim ho trovato guerrieri cioè forse farò l'icona la terzi no la quarta icona di quest'anno ho trovato zanetti eeeh ho trovato ronaldi il fenomeno e piremebi 65 la merda faccio questa sarà la quarta icona sperando che vada bene che so un bel fern non lo so ha trovato questo aliso ieri pick non so se lo userò perchè non mi piace c'è finito sempre poppe e poi non lo so allora ragazzi vi saluto vi auguro davanti a questo video il cane deve stare zitto bella why you?